Un presidio di salvamento acquatico sul litorale della città dei Templi è quanto intende realizzare l'amministrazione Alfieri per l'estate ormai alle porte con l'aggiunta comunale di Capaccio Pessum che al riguardo ha fornito apposito atto di indirizzo al responsabile dell'area protezione civile comunale per la predisposizione di tutti gli atti necessari all'attivazione del servizio di salvamento acquatico in collaborazione con la direzione regionale dei vigili del fuoco della Campania e il comando provinciale dei caschi rossi di Salerno per avvelersi dell'utilizzo di due unità dei vigili del fuoco e moto d'acqua per 10 ore al giorno per il periodo compreso dal 6 al 31 luglio prossimo. Il presidio garantirà supporto al servizio di salvataggio presente sul litorale costiero della città dei Templi assicurato nelle zone di mare antistanti le spiagge libere con la presenza di postazioni fisse con bagnini. Grazie a tutti.